Carissimi amici, sono PaninoTube e oggi siamo qua su Toffman Un gioco molto particolare dove noi diventeremo l'uomo più muscoloso del mondo Mamma mia, non vedo l'ora di provare questo gioco insieme a voi Ma prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanellina Se volete essere salutati qui sotto nei commenti basta che ve lo chiedete E io vi saluto direttamente qui sotto nel commento Oppure se volete farmi qualche domanda io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Ma ora direi di partire, direi di cominciare subito Ecco qua, cominciamo con questo omuncolo così, no? E ora pian piano la faremo diventare sempre più muscolosa Ok, abbiamo qua il peso da 60 kg, tap to start Perfetto, devo toccare qua quando arriva nel punto giusto Ah ok, no, 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 ma dai, su Fatemi capire bene come fare qua le cose, su tap to start Ok, tocchiamo qua, e mo cosa succede? Tocchiamo Così, così, ecco qua, ecco qua, perfetto, perfetto Vai! Vai, 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 perfetto, perfetto, siamo arrivati al punto giusto Ora di nuovo qua così, in questo modo, vediamo se arriviamo fino al blu E vai! Guardate con quanta velocità Sto facendo esercizio fisico Mamma mia, mamma mia Proprio di tanto, di tanto E pian piano infatti la massa muscolare comincia a comparire Ok, ok, così di nuovo sul blu Ma che bello, ma che bello Ma come fa? Ma anch'io vorrei potermi muovere in questo modo tutto velocemente Però intanto sto facendo i primi risultati Pian piano diventiamo sempre più muscolosi Ma che bello, ma che bello Ok, infatti guardate qua Ha migliorato il suo fisico Prendiamo qua le 110 monete Perfetto, vediamo cosa possiamo fare Possiamo comprare il peso più pesante Ok, direi di comprare questo da 200 No, da 90 kg, volevo dire E iniziamo qua questa partita Ok, 3, 2, 1 E si parte, si parte, si parte Via, via, via Verso quel punto blu Ok E vai Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Poi vorrei vedere cosa succede Se invece metto fino al massimo Vediamo che cosa succede Però prima Andiamo qua su, su Muoviti, muoviti, muoviti No No Ma da dove è sbuccato fuori quello Da dove è uscito fuori Ma cos'è un ninja che sbucca così dall'alto No Dal nulla Va bene, riproviamo, riproviamo Prendiamo pure le monete Su Facciamo questa nuova partita Eh no, quello blu mi sa che a sto giro non rischio Guardate dove sta Guardate dove mi hanno messo il trattino blu Cioè, veramente È impossibile da prendere quello Ok, riproviamo, riproviamo così in questo modo Su Veloce, veloce Ok Dobbiamo prendere la zona verde Però quella dopo Quella che sta più A destra Così almeno abbiamo più possibilità di fare più punteggi Ok, ok Così in questo modo Vai, vai, vai Pian piano diventiamo sempre più muscolosi Diventeremo l'uomo più muscoloso del mondo E prendiamo anche le altre monetine Ok, ok Vediamo cosa possiamo fare Non possiamo comprare nulla Va bene, su Velocemente Qua Così Veloce No Potevo prendere quello blu Non ci avevo pensato E abbiamo superato pure il livello 2 Abbiamo superato il livello 2 Vediamo cosa succede ora Andiamo qua velocemente Così No, per poco Prendevo il blu Per poco avrei preso il blu E invece non l'ho preso E invece non l'ho preso Vediamo se ora ce la facciamo Su, 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 su Sì Ci abbiamo fatta Ci abbiamo fatta Guardate qua la dimozione Troppo veloce Come fa? Cioè A me mi volano le braccia Se provo a fare una roba del genere Provo a sì Mi vedete proprio le braccia Che volano così Al vuoto All'aria Come fa? Ok Eh no, non posso votare Mi spiace, mi spiace Un'altra volta Voterò un altro giorno Però Guardate Ho preso sempre più muscoli Sempre più muscoli Sto avendo E ora prendiamo Il bilanciere Quello più pesante Quello da 120 chili Ma come fai a tenere 120 chili Come fai? Va bene Partiamo qua Tap to start Ok Quello blu non già varrai a prendere Guardate Ma come fa? Ma come fa? Ma magari si potesse diventare subito muscolosi In poco tempo Ma io mi metterei subito Con il così da 120 chili E diventerei un ball di builder Sul momento Vai Ok Ok Bene 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 Su, 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 su Poi pure La faccia gli diventa rossa Ok Velocemente così In questo modo Vai vai Diventiamo sempre più muscolosi Sempre più muscolosi E andremo sempre di più A migliorare questo personaggio Prendiamo anche le monete Perché poi voglio prendere pure Il bilanciere Quello più pesante Quello da 160 chili Però devo arrivare A meno 800 monete Se non arrivo alle 800 monete Non posso far nulla Ma qui quante ce ne sono? Ma ce ne sono un sacco Ce ne sono tantissime Va bene Tap to play Facciamo qua questa partita Qua così Ok No Per poco prendevo quello blu Per poco prendevo quello blu E invece non l'ho preso E invece no Vediamo se ce la facciamo ora Su, 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 su Sì Ce l'abbiamo fatta Ce l'ho fatta Vai Punto blu Il momento giusto Dove quello fa più esercizio fisico E guadagna più massa muscolare E vai Sì, sì Ma che bello Ma che bello Su, su, sali, sali, sali Così No Non ce l'ho fatta A prendere quello blu Ma non importa Non importa Tanto comunque Il livello 3 È stato superato E ora questo diventerà Ancora più muscoloso Vediamo, vediamo Cosa diventa Vai Oppure la barba Gli sta crescendo Oh ce l'aveva già prima Vabbè Comunque Buona barba Buona barba Vediamo quanto abbiamo di monete No, ancora no Non possiamo sbloccare Il bilanciere successivo Però possiamo divertirci Ancora qua Vai Che bello Ho messo quello verde Sì, quello blu Nella zona verde Volevo dire E infatti abbiamo preso quello blu Vai, vai, vai Ma come fai Ma come fai A muovere questi bilancieri Come se fosse qualunque cosa È come se io raccolgo Il primo oggetto Che mi capita Inizio a muoverlo Come se nulla fosse Ok Velocemente Velocemente Vediamo se prendiamo di nuovo Quello blu Sì, l'abbiamo preso L'abbiamo preso Ok, ok Bene, bene, bene A me l'animazione Fa veramente un sacco ridere Mi fa veramente Troppo ridere Ma anche troppo bella Va bene, va bene Vediamo fin dove riusciamo Ad arrivare Di nuovo quello blu Di nuovo quello blu Sì, sì, sì Veloci, veloci Ma che bello E vai Con questo posso andare a fare Show dei muscoli In giro per la città Va bene Prendiamo le 400 monete E così possiamo sbloccare pure Il nuovo oggetto Il nuovo bilanciere Per poter migliorare Il personaggio Più velocemente Oh mamma mia Oh mamma mia E questo sì che va bene Questo sì che Tanta roba Vai Ma dai Ma dai Ma dai Sì Che bello Che bello Mamma mia Ma cos'è Ma una rana questo È una rana Per muoversi così Vabbè Così fa pure le gambe Visto che prima Abbiamo fatto soltanto braccia Adesso fa pure gambe No Cioè più o meno Non lo so Prima faceva pure le gambe Ora non più Vabbè Non importa Non importa Andiamo qua avanti Veloce Vediamo se prendiamo quello blu Sì Quello blu Quello blu Guardate come va Guardate Va così veloce Che va proprio di intermittenza L'animazione Ok E abbiamo migliorato ulteriormente Il personaggio Diventiamo Ancora più muscolosi Ok Vediamo cosa succede Oh mamma mia E che è questo E che è Quanti muscoli ha costui Quanti muscoli Vabbè Collezioniamo qua le 417 monete Perché il prossimo Peso Costerà 1100 Adesso siamo a 717 Vediamo se riusciamo ad arrivare a 1100 Ok Ok Veloce veloce Qua un po' più di intermittenza Ce l'abbiamo fatta a prendere quello blu Ce l'abbiamo fatta Vai 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 Ma che bello Ok Ok Pian piano questo diventerà Non solo L'uomo più muscoloso del mondo Ma anche l'uomo più potente del mondo Ok Allora Rifacciamo qua Fino a trovare quel punto blu Ce l'abbiamo di nuovo fatta E vai Ma che bello Spettacolare Spettacolare Guardate Mamma mia Adesso pure io voglio mettermi a fare così velocemente Solo che non ho i pesi per farlo Non ho neanche un peso qua vicino Dovrei andarlo a comprare effettivamente Appena posso mi compro dei pesi Metto a fare pure io in quel modo Così magari diventerò muscoloso come lui E chi lo sa E chi lo sa No purtroppo no Purtroppo per arrivare a sti livelli Ci vuole troppo tempo Tanto tempo di esercizio fisico Va bene va bene Ora direi di proseguire qua Voglio vedere come continua questo gioco Mi sta incuriosendo sempre di più Ok 3, 2, 1 E si parte qua Vai, vai, vai Ok, ok No non ho preso il punto blu Non ho preso il punto blu Ma va bene lo stesso Dai Va bene, va bene Ok, ok Prendiamo le monete I soldi Quelli che sono E possiamo sbloccare il prossimo peso Possiamo sbloccare qua il prossimo peso Da 200 kg Siete pronti a vedere il peso da 200 kg Quello ancora più pesante Vai Questo mi sa che a breve Inizierà pure ad alzare un'automobile Non stupiamoci Se poi dopo vediamo fare esercizio fisico Che si alza così l'automobile Chissà Magari l'hanno messo più avanti Io non lo so Ok Qua siamo tornati con i pesi normali Con i manubri Quelli da tenere qua Con una sola mano Ok Tap to start Ok Si parte così Vai, vai, vai Vediamo se prendiamo il punto blu No 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 Non ho preso il punto blu E qua mi sa che il punto blu Lo prenderò un'altra volta Mi sa che è meglio non prenderlo Va Meglio non rischiare Non si sa mai Altrimenti qua Non faccio nulla Non vado da nessuna parte Ok Su sì Bene, bene, bene Un'altra volta Un'altra volta Ok Vai Quello è bello contento Quando fa il peso al momento giusto Si ritorna qua Si riprova Si ricomincia E lo faccio stavolta qua Un po' più avanti Così guadagno qualche punticino in più Perfetto, perfetto Non siamo saliti di livello Però abbiamo preso altre monete Che ci saranno molto utili Ci saranno molto utili Per prendere poi il prossimo peso Da 240 chili Ok Qua vediamo se riusciamo a prendere quello blu Anche se la vedo un po' difficile Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Abbiamo preso il punto blu E vai Che bello Che bello Vai Spettacolare Bellissimo Bellissimo Mi sta piacendo un sacco sto gioco Mi sta piacendo un sacco Si alla fine non è che devo fare chissà quali grandi cose Però è simpatico vedere qua l'evoluzione di questa persona Che pian piano diventa sempre più muscolosa Sempre più potente Con pesi sempre più alti Ma secondo me il bello sarà più avanti Sarà molto più avanti Ok Andiamo qua di nuovo a vedere se prendiamo il punto blu No non l'abbiamo preso Però siamo riusciti a prendere in tempo il trattino verde Ok bene E ora saliamo di livello Vediamo quale sarà il prossimo livello Uuuuuh Ma guardate Sempre più una montagna sta diventando Ma cos'è? Ma cos'è diventato? Va bene Va bene Va bene Facciamo qua tap to start Su 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 prendi qua Oh mamma mia Mamma mia mamma mia guardate qua che cos'è Guardate qua 240 kg Ma quello dopo è da 300 kg 300 kg Vediamo se riusciamo ad arrivare a quello da 300 kg Ok 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 Su 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 Solleva i pesi Solleva i pesi Aumenta 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 Perfetto Purtroppo quello blu me l'hanno messo di là Quindi non mi va di rischiare Non mi va proprio di rischiare qua Ok Vediamo vediamo Sta aumentando sempre di più Sì sì Velocemente saliamo 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 E fermiamoci qua Poi non voglio rischiare con quello blu Non voglio rischiare perché tanto so già che Non lo prendo E mi cadrà il ninja sopra le spalle Prendiamo le monetine Ok perfetto Vediamo quanto siamo Siamo a 1200 Ci mancano ancora poco meno Di 600 monete Per sbloccare il peso da 300 kg Vediamo se ce la facciamo qua Bene 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 Andiamo fino qua Uuu Abbiamo preso la parte blu Abbiamo preso il punto blu Perfetto Però devo dire una cosa Che più si va avanti con i livelli E più è difficile farlo salire di livello Cioè nel senso Ci vuole sempre più tempo Ok Vediamo saliamo saliamo No 198 198 Vabbè non importa Non importa Vediamo qua se riusciamo a farlo di nuovo sul punto blu No Non ce la faccio più Non riesco più a prendere il punto blu No 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 Non importa Tanto adesso saliremo di peso Perché prenderemo i 300 kg di peso Ok Questo è il peso massimo Che penso che prenderemo in questo video Quello dopo è da 400 kg Va bene Va bene vediamo cosa riusciamo a fare Su 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 No 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 Oh Perché Perché non ho preso lì il punto giusto Perché Va bene non importa Sali 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 Veloce 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 Dai Ancora poco E saliamo anche di livello Arriviamo a livello 7 Ok Perfetto Perfetto Dai Soltanto più Pochissimi punti Pochissimi punti E arriviamo a livello 7 Perfetto Vai E l'amichetto è bello contento Perché adesso salirà di livello Guardate qua Cosa diventerà Guardatelo Mamma mia Ma cos'è Ma cos'è No voglio provare soltanto a fare più un ultimo livello Con questo amichetto così Dopodiché possiamo poi completare anche quel video 3 2 1 E si parte qua Ok 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 Bravissimo amichetto Bravissimo Guardate qua L'uomo più potente del mondo Sono diventato l'uomo più forte del mondo Vai Prendi tutto quello che puoi prendere Prendi tutto quanto Più punteggi possibili E fai più pesi possibili No non ho preso il punto blu Non importa Non importa Ok ok Ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti A far migliorare Questo personaggio Siamo riusciti a renderlo da persona Piccola proprio magrolina Magrolina Ah Uno degli uomini più potenti del mondo Però a livello soltanto muscolare È purtroppo non potente dal punto di vista Di potenza Eccolo Vabbè Prendiamo qua le monetine Prendi tutto Prendi tutto E direi di fare anche una cosa Direi di finire qua questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se volesse vedere un altro episodio di questo gioco Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalliciate Quindi vi vedete Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video Come sempre vi auguro una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.